biscotti bibite patatine cioccolatini da domani inizierai la dieta e non li vedrai più perché non è importante quanto mangi ma quello che mangi e devi mangiare pulito clean sano per dimagrire ma è vero o una bagianata quante volte ho sentito dire mangio clean mangio sano così perdo peso partiamo col dire che innanzitutto non esiste una definizione scientifica di clean eating per cui per una persona che ad esempio segue una dieta chetogenica può voler dire evitare i carboidrati evitare la pasta e il pane che poi vedremo evitare il pane fa malissimo in alcune diete e non è quasi mai consigliato oppure evitare il glutine per un celiaco o evitare il lattosio per una persona appunto che ha intolleranza al lattosio di conseguenza non c'è una definizione specifica generalmente per cibo sano pulito o clean eating ci si riferisce a quegli alimenti che non sono stati lavorati o sono stati appunto minimamente trasformati magari sono di produzione biologica a chilometro zero e impossibilmente di stagione il punto è però che questi alimenti non andrebbero ricercati in maniera ossessiva e soprattutto è vero che fanno dimagrire questo tipo di dieta però è stata ampiamente criticata per la mancanza di prove scientifiche e per i possibili danni sulla salute perché perché può portare all'utilizzo di pratiche malsane come l'ortoressia l'ortoressia nervosa che è una ricerca ossessiva di determinati alimenti anche di specifici rituali mangiare prima quello poi quell'altro per forza e soprattutto è una dieta molto restrittiva che porta all'evitamento meglio è basata sul evitare determinati cibi che vengono definiti addirittura malsani o impuri ma passiamo da un estremo all'altro mai sentito parlare della twinkie diet circa dieci anni fa un professore della kansas state university professore di nutrizione umana ha iniziato questa dieta basata su merendine dorito chips patattine gli oreo biscotti e altre merendine confezionate super lavorate e ricche di zuccheri e che cosa è successo ha perso peso ha perso ben 12 chili con questa dieta come è possibile perché questo professore ha calcolato il suo fabbisogno energetico che era intorno alle 2600 calorie e con queste merendine mangiando solo questi cibi ogni tre ore così ha dichiarato introduceva 1800 calorie fatto sta che ha perso ben 27 pounds che sono circa 12 chili e addirittura è riuscito a far scendere il suo colesterolo cattivo ldl lo density lipoprotein di circa 20 per cento e ad aumentare il suo colesterolo buono anche lì più o meno del 20 per cento le hdl le density lipoprotein mangiando merendine cibo spazzatura eppure ha migliorato il suo profilo lipidico ha migliorato la sua salute generale ha perso peso ha ridotto la massa grassa e migliorato lo stato di dislipidemia con questo che cosa ci ha voluto dimostrare il professore che a governare il nostro peso corporeo è il bilancio energetico se introduco più calorie di quelle di cui ho bisogno in grasso aumento di peso se ne introduco di meno dimagrisco perdo peso ora con questo non vogliamo assolutamente dire che mangiare le merendine faccia bene anzi non è assolutamente così vanno evitate comunque ridotte al minimo il punto è che non bisogna darsi delle restrizioni troppo impegnative quindi non mangiare mai pane non uscire mai con gli amici a mangiarsi una pizza assolutamente no godiamoci la vita e facciamo quel pasto diverso una volta a settimana o comunque una volta ogni tanto quindi tutte le diete che ti dicono a puoi mangiare quanto ne vuoi di questo alimento perché tanto e clean mentre devi evitare assolutamente l'altro non mangiarlo mai perché è cattivo è malsano è impuro vanno decisamente scartate ecco scartiamo questo tipo di diete e quindi ad oggi dire che mangiare sano il clean eating fa dimagrire è una bagianata e come sempre se il video ti è piaciuto lascia un mi piace iscriviti al canale clicca la campanella per avere tutte le notifiche e lascia un commento se anche tu mangi clean e magari non dimagrisci oppure se mangi quattro pizza al giorno e riesce a perdere peso fammelo sapere noi ci vediamo alla prossima puntata delle bagianate del venerdì saluti